Tu, concetto strano, vuoi moglie questa bella ragazza, sia nella saluta che nella disgrazia? Sì, lo voglio. E tu, Sara Cinesca, vuoi marito questo bel giovanotto, finché la malasolta non l'accappotto? Sì, lo voglio. E allora, grazie ai poteri di cui la chiesa mi ha vestito, ma i vestiti sono di palazzo. Sì. E allora vi dichiaro marito e moglie, palazzo Confezioni a Martina Franca. Andate e vestitevi in pace. Sì. 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 Grazie per la visione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti